Un'altra grande edizione, la 58esima del Giro delle Valli Aretine, 12esimo Gran Premio Rosini Impianti, la corsa per l'Elite Under 23 più lunga ed anche la più veloce, aggiungiamo, di Toscana. Alla partenza da Rigutino 150 dilettanti con maglie di tutte le società più forti. Andamento molto veloce fin dall'inizio sulle ondulazioni fino a Castiglione Fiorentina e Camuscia, ma la media è rimasta alta anche salendo a Cortona, dove nello scollinamento un gruppetto di otto unità ha preceduto il grosso di una decina di secondi. Dopo il passaggio da Arezzo, presa la direzione della Foce e qui Luca Raggio della Veris Maserati ha preceduto il grosso compatto. La corsa è proseguita veloce verso Foiano e in questa città è transitato primo Davide Gaburro della Big Hunter che ha preceduto tre gruppetti prima delle gruppone. Avanti verso i tre giri finali nei dintorni di Rigutino. Al primo passaggio è passato in testa Marco Landi della Opla con 45 secondi sugli inseguitori, ma prima della campana il Landi è stato riaguardato e tutto si è ricompattato. Ultimo giro, grande bagarre per tutti i 14 chilometri finali e grande volatone a gruppo veramente compatto ha vinto Daniele Trentin della Malmantile con uno sprint magistrale. Sentiamolo e sentiamo anche il patron della corsa, Rosini. Ma sì, avevo nel finale i miei compagni là davanti, poi avevo detto di non uscire col treno prima di due chilometri perché tirava un po' in su e sennò era a rischio di piantarsi. E nel finale avevo Iannelli con me, però la Mastromarco mi ha passato sulla sinistra, gli ho detto Ian è fermo là che Marangio è dietro a loro. Sono partito intorno ai 220-200 metri e sono riuscito a tenerla fino all'arrivo, dai, è abbastanza bene. C'è bene, dai, oggi. È stata una bellissima corsa, penso, è lunga anche perché era anche una corsa semplice, se poi la fai anche corta qui non è che siamo andati in salita. Beh, è una gara storica, una gara importante in provincia d'Arezzo, io con Piero siamo molto amici e volevo esserci, per fortuna che questo anno ero a casa senza gare, sicché sono contento di essere qui. È una gara molto bella, come ha detto, tanto pubblico e un arrivo allo sprint, Trentina ha vinto una bella volata, sinceramente.